E' arrivata in prefettura a Foggia la commissione parlamentare antimafia per analizzare la situazione della criminalità organizzata in provincia alla guida alla presidente Chiara Colossimo e i due vicepresidenti Sdatis e Caffiero De Rao e in mattinata le audizioni delle associazioni anti-racket. Primo via libera al decreto sud che porta la firma del ministro Raffaele Fitto, zens unica per il mezzogiorno e assunzioni per le politiche di coesione dalla Lega Plaudono alle risorse per le scuole pugliesi. Qualcuno vuole il centro storico di Gallipoli candidato a patrimonio UNESCO, ma il sindaco del centro salentino Stefano Minerva conferma di essere già al lavoro dal 2017 con un progetto più ampio. Di nuovo insieme, bentornati all'appuntamento con le notizie da Puglia. E' Basilicata in apertura il fronte da uno con l'arrivo già in mattinata della commissione parlamentare antimafia. C'è la presidente Chiara Colossimo, i due vicepresidenti Mauro Dattis e Federico Caffiero De Rao. Il focus è quello sulla criminalità organizzata in tutto il territorio provinciale. Nel pomeriggio ci sarà la conferenza stampa, vi daremo maggiori notizie nel corso del Tg della Sera. Però la mattinata è già quella delle audizioni delle associazioni anti-racket. Per la dodicesima volta in terra di Capitanata per fare il punto sullo stato della criminalità organizzata in provincia di Foggia, la cosiddetta Quarta Mafia, definita oramai da tempo un'emergenza nazionale, una delegazione della commissione parlamentare antimafia capeggiata dalla presidente, l'onorevole Chiara Colossimo, è giunta nelle scorse ore a Foggia presso gli uffici della prefettura. I lavori hanno avuto inizio intorno alle 11 con l'audizione del prefetto Maurizio Valiante, unitamente al questore, il dottor Ferdinando Rossi, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, i colonnelli Michele Miulli e Leonardo Ricci, a seguire le audizioni dei rappresentanti delle associazioni anti-racket e anti-usura e dell'Associazione Libera. Prevista anche una sessione pomeridiana con le audizioni del procuratore della Didia di Bari, Roberto Rossi, del procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, e della Commissione straordinaria del Comune. A margine dei lavori intorno alle 18.30, la delegazione incontrerà anche gli organi di stampa, una visita alla quale si legano ovvie aspettative, alla luce anche delle recenti dichiarazioni della presidente della Commissione, che ha affermato una formazione criminale, quella foggiana denominata Quarta Mafia, ma che per struttura operativa e organizzativa, spietatezze e capacità di infiltrazione nella società, potrebbe diventare la prima. Restiamo in argomento, ma ci spostiamo in Basilicata. Il generale di brigata Gaetano Scazzeri lascia il comando regionale della Guardia di Finanza, Lucana, al suo posto. Il generale di brigata Roberto Pennone, che arriva dal comando provinciale di Bari. Il generale di brigata Gaetano Scazzeri lascia il comando regionale Basilicata della Guardia di Finanza. In carica da settembre 2020, Scazzeri, che durante la sua esperienza a Lucana, ha dovuto gestire, tra le altre attività, la complessa situazione legata alla pandemia, avrà un nuovo incarico presso il comando regionale delle Fiamme Gialle a Roma. Sono stati anni complessi, dettati da circostanze esterne, la nota pandemia, tutto quello che ha comportato a livello di sconvolgimento della vita quotidiana di ogni italiano, dei Lucani allo stesso modo, coinvolgendo imprese e attività commerciali che hanno dovuto subire uno stop forzato. Nonostante questo abbiamo garantito la tutela e la sicurezza, innanzitutto, dei nostri militari, mantenendo sempre presente quelle che sono le nostre funzioni istituzionali, quindi non distogliendo l'attenzione da quelle altre funzioni che il corpo della Guardia di Finanza deve garantire. Lascio un comando che ha una prospettiva di crescita ulteriore, di implementazione delle attività che quotidianamente svolgiamo, attività che vengono di continuo implementate perché le esigenze di tutela degli interessi finanziari dello Stato sono molteplici. Il mio non carico è al comando generale delle Guardie di Finanza, che consentirà di portare con me il bagaglio formativo e culturale e professionale che ho maturato anche in questo periodo. Prenderà alla guida del comando regionale lucano il generale di brigata Roberto Pennoni, proveniente dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Bari. La stretta sulle liste d'attesa nei mesi di luglio e agosto da parte dei carabinieri dei NAS, di concerto si intende con il Ministero della Salute per quanto riguarda la Basilicata, i NAS di Potenza hanno portato avanti approfondimenti su un poliambulatore, su un distretto sanitario della provincia di Potenza. In entrambi i casi sarebbe stato appurato il mancato rispetto dei tempi di attese, secondo la priorità assegnata dal medico di medicina generale e delle corrette procedure nella comunicazione della sospensione delle agende. Le truffe agli anziani, sempre più numerosi i casi a tema di raggiro ai danni degli anziani, soprattutto nel periodo estivo nel quale sono rimasti soli in città. La Will Pensionati consegna a loro un vademecum che è prima di tutto un invito, quello a denunciare. Truffe nei confronti di persone anziane. Nelle ultime settimane, solo nella città di Bari, sono salite agli onori della cronaca sempre più episodi che vedono protagonisti gli over 70 raggirati da spregiudicati delinquenti che vedono in loro vittime più fragili e vulnerabili. Questi reati aumentano statisticamente, soprattutto nel periodo estivo, dato che le città si svuotano, i figli e i parenti delle persone anziane sono fuori per le vacanze e di conseguenza restano sole. Il modus operandi dei malfattori è sempre lo stesso. Telefonare o fermare per strada le vittime prescelte spacciandosi come rappresentanti di forze dell'ordine o avvocati e con la scusa di un incidente stradale o per la liberazione di un figlio o nipote da presunti arresti o problemi giudiziari sottraggono somme di denaro in contante o oggetti personali di valore. Per questo la UIL Puglia Pensionati interviene con un lavoro di supporto che invita prima di tutto a denunciare quanto accade alle forze dell'ordine. Soprattutto quello di denunciare questi reati perché sono reati criminali quindi vanno denunciati, di non aver paura e timore perché c'è anche una componente emotiva e psicologica. La persona anziana si sente tra virgolette insomma beffata quindi ha paura di parlarne col figlio. Un'altra tipologia di truffa che si sta sviluppando anche nelle persone anziane è proprio anche quelle online perché avendo adesso purtroppo con la digitalizzazione, smanettando con lo smartphone diventa molto facile. Adesso arrivano molti messaggi finti dell'Inps quindi cliccate per poter avere un bonus o un aumento in questo momento anche tra l'altro di grande difficoltà economica quindi fanno leva anche su queste debolezze. E adesso la politica. Ripartiamo dalla cornice nazionale, da quello che si muove nella capitale e intanto dal primo via libera al decreto sud che porta la firma di Raffaele Fitto vale per la ZES unica di tutto il mezzogiorno vale per le assunzioni sulle politiche di coesione intanto quello che è avvenuto nell'ultimo Consiglio dei Ministri. Il decreto sud approvato dal Consiglio dei Ministri trasforma le attuali otto zone economiche speciali in un'unica ZES che riguarda l'intero mezzogiorno d'Italia consentendo così procedure di semplificazione nelle azioni e nell'uso delle risorse della fiscalità. Riteniamo che sia una grande opportunità per il mezzogiorno e soprattutto una novità di carattere anche storico rispetto al percorso che è stato compiuto anche nell'ambito del mezzogiorno d'Italia essendo questa una rivendicazione che è sempre stata fatta da tantissimi anni e che oggi rappresenta uno degli elementi fondamentali di questo decreto. Magliocchi sono puntati sul nuovo decreto contro le baby gang che coinvolge anche in parte i genitori. Viene rafforzata la sanzione nei confronti di genitori che abbandonano i figli e non li fanno andare a scuola. Questo reato di dispersione assoluta fino a ieri era punito con una sanzione platonica ora si eleva al rango di delitto con una pena detentiva. Nel testo non c'è invece l'abbassamento dell'età per l'imputabilità degli under 14 ma per i minorenni sarà più facile il carcere. Questo è molto importante perché può essere un inizio non solo di responsabilizzazione dei genitori ma anche di possibilità di perdita della capacità genitoriale nel momento in cui il Tribunale dei minori su sollicitazione appunto delle procure della Repubblica ritenesse che ne esistono i presupposti. Per il Governo insomma la priorità è reprimere la delinquenza e rieducare attraverso lo sport la cultura. Quello di una più puntuale intervento e la sanzione che deve essere conseguente deve essere oggettiva non è che da sola risolva l'argomento c'è un tema educativo, formativo, di presidio del territorio ma credo che la collegialità con la quale stiamo affrontando l'argomento vada esattamente in questa direzione. Penso che se i giovani vengono indirizzati verso queste attività ovviamente rifuggono da comportamenti illegali. E restiamo in argomento perché dalla Lega applaudono e vale soprattutto per gli esponenti pugliesi al risoro se stanziate sul comparto della scuola. Un importante risultato quello portato a casa dalla Lega con i provvedimenti sulla scuola approvati in Consiglio dei Ministri. Parliamo di Agenda Sud, una risposta concreta per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali anche in Puglia. Si incrementa di almeno un'unità in questo modo il personale ATA in ciascuna scuola del Meridione e si destinano 14 milioni al potenziamento dell'organico con 500 nuovi docenti. Senatore parliamo di Agenda Sud, un importante dato ma che numeri interessano la Regione Puglia? Noi siamo ricevuti un segnale all'intero Sud nel tema della scuola che abbraccia come sappiamo non solo l'infanzia, non solo i docenti ma tutto l'indotto della formazione e della cultura che in questa fase è quella fondamentale. Nello specifico in Puglia abbiamo dei dati importantissimi sono state 346 scuole coinvolte c'è tutte le scuole dell'infanzia sono state toccate da questo nuovo piano con dei finanziamenti importanti per importi notevoli che si aggirano intorno, vi do la certezza 34 milioni e 200 mila euro con circa 157 mila studenti della nostra Regione coinvolti quindi un importantissimo strumento che favorisce la nostra scuola la scuola della Puglia ma la scuola del Sud Italia in generale quindi avanti tutta andiamo avanti su questo percorso adesso il lancio importante che io vi dia come soluzione è che partiremo con Agenda Sud proprio da Lecce e lo faremo con il ministro Valditara e lo faremo nel mese credo di ottobre ancora la data non è stata scelta ma partiremo con una due giorni importantissima nel mondo della scuola con il ministro e con tutto il mondo della scuola coinvolto con la prima tappa nel centro-sud proprio a Lecce città Così dunque il senatore Roberto Marti e ci spostiamo sul fronte ionico ma sempre mantenendo l'asse che dalla Puglia arriva fin nella capitale perché nell'escorsione si è sciolto uno dei nodi dei giochi del Mediterraneo 2026 lo stadio Iacomone di Taranto sarà infatti oggetto di riqualificazione totale con un progetto realizzato ex novo in vista dei giochi dunque non si va nella direzione di un nuovo impianto l'esito dell'incontro tra il commissario Massimo Ferrarese e il sindaco Rinaldo Melucci non pensiamo a una soluzione temporanea una soluzione solo perché dobbiamo realizzare i giochi pensiamo ad una ristrutturazione ma che non sia solo quella una riqualificazione o un restalling a uno stadio che praticamente diventa uno stadio nuovo noi stiamo pensando insieme ne ho parlato con il sindaco Melucci a qualcosa di eccezionale il dato è tratto la scelta è compiuta per lo stadio Iacomone la strada giusta quella della riqualificazione accantonato al progetto del nuovo stadio firmato Esper Investor mancano i temi tecnici sarà realizzato un progetto di ristrutturazione che renderà comunque lo stadio Iacomone del tutto nuovo e destinato a durare del tempo uno stadio eccezionale come ha ribadito il commissario per i giochi del Mediterraneo 2026 Massimo Ferrarese che ha incontrato nella sede della Camera di Commercio il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e i tecnici comunali oltre ai rappresentanti di Esper Investor che delusi non hanno voluto rilasciare dichiarazioni l'importante è fare in fretta grazie al clima di ritrovata armonia una grande ristrutturazione una riqualificazione non ho mai parlato di altro e un restyling di altissimo profilo c'è in campo una sola ipotesi che è quella di comunque uno stadio tutto nuovo ora se sarà tutto nuovo molto aderente al progetto privato che è stato presentato o molto nuovo perché col commissario insieme abbiamo fatto altre valorazioni nell'interesse della comunità penso che sia relativo per lo stadio sono attualmente disponibili 18 milioni cifra che Ferrarese intende rimpinguare grazie all'interlocuzione diretta con il governo gli incontri tra i tecnici proseguiranno a ritmi serrati per arrivare al nuovo progetto dello Iacovone nei prossimi giorni ci sarà anche un sopralluogo congiunto nella struttura del quartiere Salinella con il commissario il primo cittadino base l'una delle aziende più importanti del petrolchimico di Brindisi chiude un impianto 47 lavoratori in esubero rischio per tutto lo stabilimento vi abbiamo raccontato nell'escorsione le barricate della politica in protesta però c'è un intero territorio sentiamo la preoccupazione è tanta per il presente e per il futuro la decisione dei vertici Lion del Basel di chiudere uno dei due impianti di Brindisi il P9T ha comprensibilmente destabilizzato non solo i lavoratori coinvolti che saranno l'inziati ma l'intero territorio il sit-in realizzato dinanzi ai cancelli dell'azienda rimarca proprio il timore che questa possa essere solo la prima tappa di un impoverimento del petrolchimico brindisino con conseguenze drammatiche sul piano occupazionale salutiamo con favore la pronta accoglienza della richiesta che abbiamo fatto il ritorno che abbiamo avuto da parte della prefettura per l'incontro convocato per lunedì l'incontro convocato per lunedì dal presidente della provincia le dichiarazioni che stiamo raccogliendo di estremo criticità di tutte le istituzioni locali dei parlamentari intanto la politica si sta mobilitando l'impegno è trasversale l'onorevole Mauro Dattis ha già annunciato un'interrogazione parlamentare diretta al ministro Urso per richiedere l'intervento del governo da qui parte una vertenza nazionale perché togliere togliere un tassello importante in Italia per la chimica di base dichiarare il fermo delle attività su un impianto importante come quello di Brindisi lascia pochi dubbi a quello che potrebbe essere poi il futuro di tutta la chimica in Italia e che potrebbe ripercuotersi su decine centinaia di migliaia di addetti del settore Una situazione delicatissima quella di Basel una vertenza che deve arrivare sul tavolo del governo rimarcano più volte i sindacati questa diventerà una questione nazionale La guardiamo come un preludio non solo allo stabilimento di Basel perché naturalmente sappiamo tutti che con un solo impianto con il PP2 non è sostenibile il mantenimento di Basel su Brindisi quindi la vediamo appunto come una via di uscita dal nostro territorio e questo può provocare seri danni a tutto il comparto della chimica di base Medici per la postazione 118 di San Vito dei Normanni il sindaco da due anni chiede alla AS di intervenire Arriva, suona ma non apre nessuno la postazione del 118 di San Vito dei Normanni era e resta chiusa lo sarà fino a quando non ci saranno i medici necessari per tenerla aperta nel frattempo se gli operatori sono fuori per il servizio la sede resta vuota della serie se la coperta è corta impara a rannicchiarti il problema sul quale di recente sono stati riaccesi i riflettori dopo il decesso di un uomo avvenuto nei giorni scorsi nella città normanna in realtà risale a due anni fa è da allora dal settembre 2021 che il primo cittadino scrive alla ASL ai direttori generali Pasqualone Roseto al commissario Gorgoni e anche al direttore del servizio di emergenza Urgenza Leone mi hanno confermato che la postazione del 118 di San Vito da India deve ritornare a essere Mike con la presenza del medico e questo sarà immediatamente possibile non appena saranno formati i medici mi diceva il dottore Leone che su un avviso pubblico di 15 per 25 medici hanno risposto solo in 4 solo 4 candidature per 25 posti e questo è il problema ed è per questo che l'avviso è stato riaperto non appena ci sarà un riscontro sempre ammesso e sperando che ci sia si partirà assicurano dall'ASL con la formazione dei medici quelli dell'emergenza Urgenza che al pari degli altri servono come il pane ancora dal territorio più ecosostenibile con una migliore distribuzione interna ma non solo sono iniziati questa mattina lavori per il primo centro comunale di raccorta nel tessuto urbanistico di Bari che si aggiunge a quello della sede di Amiopuglia è il primo centro comunale di raccolta insediato nel tessuto urbanistico della città di Bari che si aggiunge al CCR della zona industriale nel compendio gestito da Amiopuglia iniziano i lavori in via Martin Luther King al quartiere Poggio Franco di Bari per il CCR che andrà a ristrutturare il precedente centro di raccolta la progettazione delle opere e la sua realizzazione avranno un importo complessivo di 660 mila euro e la consegna è prevista per dicembre prossimo l'operazione prevederà anche la realizzazione di nuove pavimentazioni impermeabili nelle zone che saranno destinate all'area servizi e allo scarico e deposito dei rifiuti impianti fotovoltaici l'installazione di colonine per la ricarica di mezzi elettrici e la realizzazione di un nuovo accesso carrabile le aree interne inoltre saranno suddivise per funzionalità in modo da garantire l'assenza di interferenze tra la presenza dei cittadini e le attività di funzionamento del deposito zonale potranno conferire tutti quei materiali che di regola non possono essere conferiti nei cassonetti stradali per esempio o pensiamo anche al porta a porta perché questa è un'area che potrà servire anche a reali mitrofe come per esempio Carbonare il quarto municipio dove partirà tra poco il porta a porta e quindi tutti i materiali sia metalli sia plastica anche in maggiore quantità nel momento in cui si dovesse voler conferire non si può conferire ovviamente l'indifferenziata ma pensiamo agli oli pensiamo quindi agli oli esausti pensiamo anche al cosiddetto RAE tutto quello che molto spesso vediamo anche abbandonato per strada pensiamo agli ingombranti e adesso ancora dal territorio ma da un altro punto di vista se giovedì 14 doveste ricevere un messaggio che annuncia catastrofi niente paura si tratta di una sperimentazione questa questo è un messaggio IT alert se giovedì 14 doveste leggere sul vostro telefono un messaggio di allerta niente paura nessuna catastrofe in atto almeno non nelle previsioni da quel giorno infatti a partire da mezzogiorno sarà testato il nuovo IT alert anche in Puglia e il sistema nazionale di allarme pubblico che informerà la popolazione in caso di gravi emergenze il governo lo sta sperimentando attraverso l'invio di un messaggio sui dispositivi mobili delle persone che si troveranno nell'area di test come la Puglia appunto verrà inviato a campione un messaggio con notifica sonora chi lo riceverà non dovrà fare nulla di particolare se non compilare in totale anonimato un questionario sul proprio dispositivo al momento sono sei campi d'azione in considerazione maremoto generato da un terremoto collasso di una grande diga attività vulcanica per Vesuvio campi flegrei vulcano e stromboli incidenti nucleari o emergenze radiologiche incidenti rilevanti in stabilimenti industriali e precipitazioni intense una volta entrato a regime non si tratterà di una sostituzione delle modalità di comunicazione in uso ma il servizio nazionale di protezione civile integrerà le modalità di informazione già previste con le misure di autoprotezione a seconda della tipologia di rischio e di contesto per fare la tua parte clicca sul messaggio entra nel sito e compila il questionario ET Alert il sistema nazionale di allarme pubblico non ci sarà invece un alert ad avvisarvi dell'arrivo della carovana di resto al sud almeno fino a questo momento che nell'escorsione ha incontrato il presidente della Basilicata Vito Bardi Storie, eventi, sagre tradizioni ma anche scoperta dei borghi e dei comuni che in estate si riempiono di colori e vita per condividere quello che di buono di genuino hanno da offrire già 32 dirette realizzate altre 30 puntate in programma più di 90 comuni tra Puglia e Basilicata raggiunti dalla carovana di Io resto al sud il nuovo format realizzato dal gruppo distante che ha ricevuto i complimenti del presidente della regione Basilicata Vito Bardi che ha incontrato alcuni dei protagonisti accompagnati dal nostro editore Domenico Distante una trasmissione che è molto seguita e molto interessante anche perché ha messo in evidenza come diceva giustamente lei quelle sono le caratteristiche anche dei comuni più piccoli del nostro territorio e credo che questo sia una cosa importante perché fa conoscere dei luoghi che altrimenti molti non avrebbero mai conosciuto ma soprattutto fa conoscere le tradizioni fanno parte di una cultura di un popolo e soprattutto la conoscenza dei territori stimola anche oltre che alla conoscenza a andare nei territori a conoscere quelle che sono le tradizioni soprattutto anche a conoscere quelle che sono l'abbiamo visto nell'ultima sagra pure dove ci siamo visti affidiamo la sagra del pecorino quindi prodotti tipici del territorio ritengo che sia un veicolo importante perché la gente è contenta di questo e soprattutto può essere anche uno stimolo e io questo mi rivolgo ai più giovani perché conoscendo questi territori possano anche frenare la loro corsa ad andare fuori quindi è una lotta nel suo piccolo anche a quelle forme di spopolamento che attanaglia non solo la nostra regione ma tutto quanto il sud ultimo appuntamento con i giovedì della Camerata Musicale Barese l'ultimo è l'omaggio a Lucio Dalla è nel ricordo di Lucio Dalla e delle sue canzoni che si è chiusa a Bari la rassegna Giovedì della Camerata organizzata dalla Camerata Musicale Barese in collaborazione con l'Università Aldo Moro protagonisti nell'Ateneo del Capoluogo Pugliese il giornalista e critico musicale Ernesto Assante e la cantautrice e performer Roberta Giallo che hanno raccontato dialogando il loro incontro col cantautore bolognese uno dei più talentuosi della storia della musica italiana con canzoni rimaste nella memoria collettiva tanta musica ma anche racconti come detto legati al percorso umano e professionale soprattutto sul come sono nati alcuni dei capolavori più noti tutto a volte può partire da un'idea da un luogo da una semplice intuizione notevole il legame soprattutto tra Roberta Giallo e lo stesso Lucio Dalla inizia la sua carriera aprendo il concerto di Sting in piazza del plebiscito a Napoli in diretta su All Music in cui viene notata da Mauro Malavasi che la introduce proprio all'artista bolognese con cui nasce subito una profonda amicizia sentimento che traspare anche dalle sue interpretazioni suggestiva quella di Caruso il tutto è stato accompagnato anche da scenografie grafiche suggestive che meglio rappresentano la personalità di Lucio Dalla viva anche la partecipazione del pubblico lasciatosi andare a momenti emozionanti e vivi più di qualcuno vorrebbe il centro storico di Gallipoli candidato a patrimonio UNESCO il sindaco del centro in questione Stefano Minerva conferma di essere già al lavoro e su un altro progetto Tiene ancora banco a Gallipoli l'idea lanciata anzi rilanciata alcuni giorni fa attraverso i social di candidare il centro storico di Gallipoli a patrimonio dell'UNESCO non è la prima volta che la città si candida per questo riconoscimento un tentativo simile era stato avviato nei primi anni 2000 poi fallito ma non tutti sanno che il sindaco Stefano Minerva da tempo precisamente dal 2017 sta lavorando proprio in tal senso con un progetto però più ampio lo scopo è sempre quello di custodire tramandare alle generazioni future l'eredità ricevuta e il centro storico della città bella racchiude una ricca tradizione religiosa civile e culturale in realtà forse qualcuno che lancia senza conoscere la storia non si ricorda che a partire dal 2017 io sono stato il protagonista e colui ha voluto un tavolo sulla piattaforma UNESCO all'UNESCO ci ha risposto che sostanzialmente non sono più accettate le singole candidature di città ma bisogna allargare o ad una peculiarità di più comunità o a più comunità che insieme candidino qualcosa per questo abbiamo avviato anche con la città di Lecce un nuovo tavolo sul barocco patrimonio UNESCO che può essere l'elemento che ci dà la spinta in più per poter arrivare a definire questo quindi ci continuiamo a lavorare senza retorica ma provando a ottenere risultati in base all'indicazione che hanno dato quindi diciamo che è una cosa a cui il sindaco stava già lavorando stava già lavorando nel 2017 come verbali di sedute dimostrano così parlo dunque Stefano Minerva era la nostra ultima notizia ci fermiamo però torniamo tra poco con le notizie da Bari Battefoggia state con noi rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo Grazie a tutti